Ciao a tutti benvenuti a questa nuova video recensione. Allora la prima domanda è perché ho deciso di fare una nuova video recensione nonostante sia parecchio tempo che non ne faccio una. Prima di tutto però facciamo scattare come al solito il nostro cronometro perché non voglio farvi perdere più di 15 minuti del vostro peziosissimo tempo che sicuramente passerete vedendo altri video simpaticoni o stupido quello che vi pare potete fare quello che mi pare nel vostro tempo poi non dovete mica per forza seguire me ma detto questo perché siamo qui ragazzi perché ho scoperto piuttosto recentemente o avevo dimenticato da buon studente di cinema scusatemi che c'è un film in cui i protagonisti principali sono Marlon Brando e Anna Magnani. Allora i cinefili come voi sicuramente sapranno appunto che sono due pilastri della storia del cinema una più italiano l'altro più americano ma comunque due pilastri della storia del cinema che hanno fondato appunto le basi per anche tipi di recitazione differenti e appunto hanno avuto una storia travagliata entrambi. Questo film si chiama Pelle di serpente è un film in traduzione italiana perché nel titolo originale si chiama The Fugitive Kind magari vi metto sotto il testo Fugitive Kind ed è un film del soggetto di Tennessee Williams che è uno dei più grandi sceneggiatori della storia andatevelo a cercare non vi dico altro Tennessee Williams e per la regia di Sidney Lumet che anche lui è stato un grandissimo regista e quindi insomma un pantheon tra attori e regista e lo sceneggiatore è perdonatemi il termine ma della Madonna perché comunque sotto c'è un lavoro molto particolare. Perché questo film? Perché ora che è un film del 60 sono passati un bel po' di anni possiamo dire così? Per un semplice motivo ragazzi me lo sono visto l'altra sera quasi per caso io ultimamente sto guardando solo film di Marlon Brando praticamente non chiedetemi perché ma ciò sta fissa adesso e mi sono messo a vedere un po' tutti vabbè Il Selvaggio, Un Tramacchimato di Sderio è uno dei miei film preferiti in assoluto e così via insomma Poco di Spinao tra l'altro giusto ieri sera io vi sto parlando adesso non so voi quando lo vedrete comunque qualche tempo fa a Bologna io sono di Bologna perché mi conosce e c'è stato proprio Francis Ford Coppola per la presentazione in Piazza Maggiore che ogni estate qui in Piazza Maggiore a Bologna fanno il cinema all'aperto c'era proprio lui per presentare una la versione penso la versione nuova di Apocalypse Now quella rimasterizzata l'anno scorso o comunque no non l'anno scorso scusatemi quello è stato l'ultimo tango a Parigi comunque a breve e c'era proprio lui e appunto Brando e Coppola hanno lavorato insieme appunto in Apocalypse Now ma questo non è questo il film appunto perché pelle di serpente perché è un film che io ritengo sia ancora strettamente attuale questo film parla essenzialmente dell'odio delle facce delle molteplici facce che può vedere l'odio parla del razzismo parla della misoginia forse non è il termine corretto ma della violenza sulle donne e portatemi fa molto caldo il film che poi vedete qui alle spalle è interessante perché lo fa vedere proprio in un modo molto pesante e anche quasi dei rimandi alla storia greca addirittura non mi dilungherò su questo però ma partiamo ad esempio da Marlon Brando il personaggio di Marlon Brando che si chiama Valentine se non ricordo male detto Val è un artista sui trent'anni che compie trent'anni proprio l'inizio della storia e disilluso perché comunque lui è un grandissimo chitarrista ma questa chitarra fantastica con le autografie dei suoi miti dei nomi dei musicisti scolpiti nelle stelle dice a un certo punto molto bello e che poi lui la chiama la sua compagna di vita e è questo musicista che decide di cambiare vita perché non è riuscito evidentemente a diventare famoso ha capito trent'anni e quindi deve cambiare e arriva in questa città praticamente in cui cerca di integrarsi cioè chiede un lavoro ad Anna Magnani che gestisce per conto del marito ormai molto prossimo alla morte questo negozio che vende un po' di tutto e appunto da lì parte la storia ma la cosa interessante appunto proprio perché è questo vedete io ne do qualche occhiata c'è proprio l'inizio con la pioggia anche proprio un tema molto pesante già con l'evento atmosferico noi sappiamo chi studia appunto cinema che l'evento atmosferico è fondamentale e ti fa trasmettere proprio anche a livello emotivo cosa sta succedendo e appunto c'è è tutto ciò che è al di fuori della società viene in qualche modo giudicato senza valore o maligno ma Anna Brando che è un artista mi sono scritto alcune cose ragazzi meno di controllo e quindi appunto cerca di andare oltre di entrare nella società svolgendo un lavoro normale quello del commesso viene già visto dalle figure maschili soprattutto solo dagli uomini perché alle donne piace un belloccio quindi viene visto come pericoloso viene visto come l'uomo giovane belloccio che interessa le loro mogli e quindi glielo dice a un certo punto proprio il marito di Anna Magnani nella storia la protagonista c'è proprio che le donne vengono a spendere lì perché c'è lui che è bello ma che fondamentalmente non vale niente e quindi c'è proprio questo lui cerca di avere un rapporto di entrare nella società ma il fatto che lui è un artista un personaggio che viene visto spesso al di fuori delle normali regole sociali e non glielo permettono tant'è che a un certo punto della storia gli diranno c'è proprio una frase anche molto molto tosta gli diranno di andarsene entro l'alba perché altrimenti fa una brutta fine e glielo dicono papale papale non stava a ripetere la frase perché è anche abbastanza pesante e lui capisce che se non se ne va in tempo rischia di venire ucciso questo è semplicemente perché viene visto come una persona al di fuori della società che cerca di integrarsi ma le persone dentro la società non glielo permettono e quindi questo è solo un personaggio ragazzi quindi già capite dal tema che si tratta di un tema abbastanza pesante cosa che appunto poi non gli riuscirà, non ce la farà perché non gli verrà permesso proprio il secondo punto c'è un'altra figura, il personaggio di Carlo che adesso mi sfugge il nome dell'attrice che praticamente è la donna indipendente che viene vista come una pazza perché lei invece al contrario di Val che è un estraneo alla società che cerca di integrarsi ma non gli viene permesso lei era una figura all'interno della società quindi con un fratello, una macchina insomma così che però addirittura a un certo punto dice che fa una marcia verso la casa del senatore perché vuole che ci siano più diritti per i neri ricordiamo che erano gli anni 60 ma perché prova a fare questo, prova a fare altre cose, altre campagne e viene sempre man mano esclusa sempre di più della vita della società della società appunto di questa città, di questa contea e all'inizio appunto gli tolgono addirittura la patente lei non può andare in giro, non può più avere la patente viene esclusa da un bar ad esempio tipo lei va a bere in sto bar che lui appunto va alla compagna perché vede che insomma non sta bene, è mezza ubriaca e proprio a un certo punto quando entrano, prendono da parte e gli dicono guarda portala fuori da qui, non vogliamo che stia qui e ti viene impressionato questo personaggio che all'inizio non ti viene detto questa cosa quindi è una cosa mai ha fatto questa donna semplicemente ne ha combattuto per la sua indipendenza l'indipendenza dei neri, delle persone di colore e per questo man mano è stata esclusa dalla società e anche questo è un elemento importante quindi alla fine lei viene vista come una pazza non perché sia pazza veramente ma semplicemente perché cercava di andare di far progredire la società verso qualcosa di migliore e non gli viene permesso non gli viene permesso sempre da quelle idee sì anche misogene legate proprio cieche proprio al di vedere solo in un'unica direzione neanche proprio da un buco della serratura proprio e questa sotto lei viene esclusa tanta che non può neanche tornare in città proprio non gli fanno neanche a un certo punto viene picchiata perché chiede semplicemente di fare benzina alla pompa di benzina ma non può fare neanche quello e quindi anche questo è un altro personaggio e quindi già capite che si tratta di un film innanzitutto comunque ve lo dico subito pesante no però può essere visto come un film pesante ma perché tratta dei temi importanti altro personaggio è il personaggio di Lady Lady appunto è la figura di Anna Magnani che appunto è questa moglie che vuole ricostruire la sua vita cerca di ricostruire la sua vita dopo un trauma ovvero quando praticamente suo padre muore perché qualcuno dà fuoco alla vigna di suo padre per produrre vino viene incendiata e lei vive costantemente col pensiero che quelle stesse persone siano le persone che vede tutti i giorni i suoi clienti del suo negozio perché non sa che sia effettivamente la persona le persone che hanno dato fuoco alla vigna di suo padre quindi distruggendogli la sua vita e uccidendo di fatto il padre che lui era andato praticamente a cercare di spegnere l'incendio e quindi anche lei cerca di ricostruire la società cerca di rendersi indipendente ma tutti i giorni praticamente è clissata da questo marito spietato che a un certo punto gli dirà che lui è una delle persone che hanno incendiato la vigna del padre e sapete qual è il motivo per cui l'hanno incendiata? perché lui un giorno praticamente vendette due o tre bottiglie di vino a dei neri di passaggio e gli distrussero la casa e quindi lei cerca praticamente di ricostruire la sua vita e poi si aggrappa un po' alla figura di Val che è un uomo più giovane lei interpreta la donna più sui 50 lui è un uomo sui 30 anni quindi un uomo un po' più giovane perché il marito praticamente la tratta in un modo spaventoso e quindi appunto cerca di attaccarsi a lui e le loro realtà cercano di coesistere insieme ma anche lei verrà comunque massacrata dalle persone il finale è straziante signori mei alla fine vabbè non vi dico qual è la fine perché non voglio rovinarvela però un finale veramente pesante in cui personalmente io pianto non mi succede spesso in un film mi faccia venire un magone del genere ma ti fa capire molte cose ti fa capire innanzitutto che la violenza e l'odio possono non avere cioè non ha colore ovvero è semplicemente un odio contro le persone che sono diverse ma diverse e non diverse di colore diverse in generale cioè sostanzialmente quello che mi è passato da questo film è che se sei al di fuori della società se cerchi di migliorare la società se non ti uniformi alla società vieni distrutto e io credo sia una realtà piuttosto vera questa quindi scusatemi se magari vi ho appesantito con questo film ma io penso questo è il motivo per cui penso che pelle di serpente chiamatelo come volete debba essere visto da tutti almeno una volta io sono convinto che se questo film venisse mostrato nelle scuole vi si è mostrato in qualsiasi situazione credo che chi vuole capire capirebbe perché io sono sicuro che molta gente si involgerà dall'altra parte perché non interessa la paura la paura dell'ignoto è la paura arcaica per eccellenza quando c'è qualcosa di diverso è troppo costoso dispendioso prendersi del tempo per conoscerlo e quindi è più facile denigrarlo odiarlo renderlo un esule e qui succede questo le persone appunto che in qualche modo sono leggermente diverse vengono massacrate e io credo sia un film molto vero perché comunque non ti edulcro dalla pillola così è così rimane e quindi faccia vedere una realtà che attualmente non dico niente ma attualmente in tutto il mondo si sta facendo sempre più strada sì è un film degli anni 60 ma è un film di oggi è un film purtroppo invecchiato bene non è una cosa così lontana come si potrebbe pensare io ho concluso in realtà ho concluso prima dei 15 minuti so che è una recensione un po' pesante vorrei rendervela più divertente ma in questo caso non c'è purtroppo niente di divertente è un film meraviglioso spendo ancora due parole per le interpretazioni incredibili degli attori principali che sono fondamentalmente Marlon Brando Anna Magnani e voglio dire anche il nome dell'attrice che fa è Joan Woodward che fa appunto Carol e funzionano molto bene tutti e tre questa è la figura questo che si vede lei appunto è la figura appunto di Carol che è appunto questa figura così e vengono mostrate tre tra queste tre persone queste tre interpretazioni sono incredibili appunto soprattutto lei è molto brava mi punto soprattutto sulla figura appunto del Brando e della Magnani lavorano molto bene insieme Williams Tennessee Williams riesce sempre a fare dei film a sceneggiare delle storie incredibili che sono attuali tutt'oggi non li ho visti tutti però quelli che ho visto mi rendo conto che davvero sono così attuali che fanno quasi accapponare la pelle per cui vabbè Sidney Lumet è uno dei più grandi registri della storia io credo che questo film vada veramente visto ma vada visto col cuore aperto perché grazie a queste due tre interpretazioni magistrali credo veramente che possa far capire qualcosa alle persone io vi ringrazio abbiamo fatto neanche 15 minuti quindi vi ho preso meno del tempo che vi avevo detto però citerei che lo guardaste ve lo consiglio e se lo avete visto se lo vedrete ditemelo nei commenti se ne può parlare mi piacerebbe che diventasse un dialogo aperto aperto sì aperto aperto difficile perché non siamo non siamo direttamente però leggerò nei commenti poi vi commenterò vi ringrazio se vi è piaciuto il video mettete un like se non vi è piaciuto un dislike non è il vostro diritto siamo in un paese libero per adesso e vi ringrazio seguite la pagina ho fatto altre recensioni più divertenti ve lo prometto e ci vediamo alla prossima quando troverò un altro film che valga la pena di essere recensito come in questo modo grazie mille e alla prossima ragazzi ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti